Non siamo sicuramente contenti per la condotta, credo che chi venga a giocare qui, le squadre che vengono abbiano bisogno e devono avere personalità e altrettanto chi viene ad arbitrare deve avere la stessa identica personalità nel non farsi condizionare. Il giallo a Samaric e il giallo a success diciamo che con la Samaric è un po' emblematico e con la success credo fosse giusto per tutti e due se dà il giallo a success devi darlo assolutamente anche a Mancini, però al netto degli episodi di quello di cui non siamo contenti è appunto dell'andamento generale della prestazione che ci è sembrata di scarsa personalità. Siamo molto contenti della crescita dei ragazzi, siamo contenti del lavoro di Mister Cioffi che ha avuto un impatto veramente importante in queste partite. La crescita di alcuni singoli è assolutamente emblematica perché è cresciuta anche la squadra, quindi di conseguenza crescono loro. Joao da terzo è sicuramente una scoperta ma sta facendo molto bene perché ci dà sicuramente grande qualità in uscita palla, grande dinamismo nelle rotazioni che poi chiede il Mister e anche un'attenzione in fase difensiva che magari da altre parti va fatto vedere meno ma qui lavoriamo tutti i giorni anche in maniera individuale molto forte con i ragazzi per cui si sta vedendo una crescita. Martin è questo giocatore, quello che ci aspettavamo, un ragazzo che ha giocato nel Boca Juniors, che ha fatto un percorso importante sia in Sud America sia in Europa giocando al Middlesbrough, quindi ha tutte le caratteristiche per essere il centrocampista odinese, quindi con forza, con inserimento, con dinamismo, con forza nel duello per cui siamo molto contenti di entrambi, della crescita dei quinti, anche di Festi e di Jordan, di Zemura, ma in generale è cresciuta la squadra, siamo meno contenti del primo tempo per quello che si è visto e per il potenziale che abbiamo, dobbiamo ripartire dal nostro secondo tempo, dobbiamo ripartire da tante certezze che comunque si incominciano e si stanno vedendo preparando una partita, quella col Verona, sicuramente importante perché sappiamo che è una partita che vale molto, la prepareremo come sempre con grande equilibrio, con grande forza, con grande energia, che è quella che vogliamo vedere dai ragazzi sempre. Ci concentriamo sui ragazzi che abbiamo a disposizione e credo che stiano facendo un lavoro, anche oggi Success ha fatto un lavoro comunque molto importante per la squadra, siamo contenti del gol di Florian, che comunque dicevo anche nel pregara sta lavorando veramente bene e ha comunque sempre fatto prestazioni di livello al quale magari è mancato sottoporta un po' di incisività in qualche partita, ma sappiamo il valore del ragazzo. Io credo che a livello, ripeto, sia qualitativo che numerico abbiamo tante soluzioni. Sì, siamo stati un po' penalizzati chiaramente da alcune defezioni importanti perché comunque De Lofeu, Brenner e Davis sono tre giocatori molto importanti e sfido chiunque a giocare senza tre giocatori come loro, quindi intanto ci concentriamo sui ragazzi che abbiamo a disposizione, dei quali siamo contenti e sui recuperi di questi ragazzi. Poi magari a fine dicembre tireremo le somme e cercheremo di capire se sarà o no necessario intervenire. Per il momento io credo che sia il nostro reparto offensivo un reparto assolutamente all'altezza e che meriti e che abbia bisogno solo di fiducia. Anche Lorenzo, Luca, quando ha giocato, ha avuto un impatto secondo me sulla categoria importante. Abbiamo anche Simone in panchina che può entrare e cambiare la partita da un momento all'altro, per cui credo che a livello di caratteristiche e di profondità siamo messi bene. Poi cercheremo di recuperare per il girone di ritorno sia Davis che Brenner e faremo tutte le valutazioni necessarie spostandole magari, permettetemi, più in là di qualche partita.